Gregus, Cesare Cremonini, 8 e 36 minuti, oggi è martedì, al martedì si parla di periferie. Buongiorno Walter Cherubini. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e una buona giornata. Consulta Periferia Milano. E allora, oggi vogliamo parlare di un tema che viene ripreso anche dal decalogo di ripartire per le periferie, giusto? Sì, diciamo che il focus periferie di questa settimana lo dedichiamo a una situazione che è quella dell'utilizzo degli immobili comunali, in particolare quali destinati, diciamo così, all'associazionismo. Associazionismo che, stiamo parlando di associazionismo, non quello che fa iniziative, chiamiamole così, con tutto rispetto naturalmente, però volutuarie. Voglio collezionare qualcosa. No, stiamo parlando di tutta una serie di realtà associative che fanno delle cose che alcune volte vengono anche riconosciute, premiate, gli danno l'ambrogino, riconoscimenti vari e dopodiché si trovano, che utilizzano dei immobili comunali, dopodiché si trovano per una, diciamo così, situazione legislative-burrocratica, in una serie di difficoltà quando questi contratti di locazione, di associazione, scadono. Ecco, qui entra tutto un meccanismo, che è quello, chiamiamolo così, dei bandi, che, dal punto di vista generale, non distingue molto, come logica, dall'assegnazione dei negozi che ci sono in Galleria Vittorio Emanuele, piuttosto che un'associazione che magari sta in quel di Villa San Giovanni e si occupa di persone che hanno delle necessità particolari. Perché il tema qual è? Nei bandi, se io faccio un'offerta più alta rispetto ad altri, potrei portarmi a casa l'immobile. Il problema è che stiamo parlando di associazioni, che a volte fanno anche solo fatica a fare il minimo sindacale di quello che viene chiesto come locazione. Cioè, nel senso che, in teoria, anzi, mi verrebbe da dire, dal donatore che magari dona dei soldi a un'associazione, preferirei che quei soldi vadano all'opera dell'associazione e non a pagare l'affitto al comune. Posso dirlo proprio anche così brutalmente? Ma proviamo un attimino a ribaltare il concetto, va bene, ribaltiamo il concetto. Cioè, la città di Milano si fa carico di queste necessità che vengono conclamate oppure no? E attraverso i suoi strumenti, diciamo così, organizzativi, la propria amministrazione comunale, perché, ricordiamo, l'amministrazione comunale non è un organo separato dalla città, un organo contro la città, è un organo espresso dalla città. E quindi c'è questa pressione osmotica, mettiamola in questa maniera. Dopodiché non può essere tutto perfetto, però possiamo anche migliorare sicuramente determinate cose. Allora, se ci sono delle situazioni che richiedono, su cui è riconosciuta la necessità, perché? Perché ci sono la necessità di supportare i ragazzi per la scuola, perché ci sono delle persone che hanno delle difficoltà di diambulazione, chiamiamole come vogliamo, cioè lo spettro è amplissimo. Allora, c'è bisogno di un luogo dove fare determinate cose. La collettività, il Comune di Milano, cioè la nostra comunità, mette, siccome ha numerosissimi spazi immobili, che tra l'altro non sono utilizzati, e quindi rimangono anche degradati e sono anche luogo di occupazioni abusive e quant'altro, ecco che allora, per creare un tessuto sociale che regga, è necessario che la città dica, va bene, io mi faccio carico di queste cose e se trovo qualcuno che se ne fa carico, cerco di aiutarlo in tutti i modi. Quindi una delle questioni fondamentali è anche quella della continuità dell'iniziativa. Noi ci siamo legati un pochettino mani e piedi, a livello legislativo generale nazionale e anche a livello locale, dove utilizziamo questa categoria dei bandi pensando che sia la panacea di tutti i mali. Invece i bandi, per loro definizione, sono limitati nel tempo e invece tutta una serie di iniziative hanno bisogno di tempi lunghi per disbiegarsi e anzi hanno avuto anche tempi lunghi per consolidarsi. Prendiamo per esempio il Pane Quotidiano. Il Pane Quotidiano che ha due sedi, una in Viale Toscana e una in Viale Monza. In particolare la sede di Viale Monza, è scaduto, diciamo così, il contratto nel 2021. Poi il Comune ha fatto un bando per, l'ha messo a bando quindi chiunque poteva concorrere, ma l'ha messo a bando con tutta una serie di vincoli, prescrizioni e quant'altro, a partire da 8 mila euro di locazione, ma poi prevedeva tutto quanto alla ristrutturazione dell'edificio. E capite che una realtà come il Pane Quotidiano, che cerca di mettere insieme il pranzo con la cena da dare a migliaia di persone, se si trova anche ad affrontare delle spese enormi, comincia a essere difficile. Il risultato è stato che a questo bando non ha risposto nessuno. Nemmeno lo stesso Pane Quotidiano. Nemmeno loro, perché noi abbiamo anche dei sostenitori, persone che ci aiutano e quant'altro, però nel momento in cui ci dicono ci state dentro per nove anni, pensiamo che il Pane Quotidiano è una realtà associativa che è data dal 1898, se non mi ricordo male, comunque da fine 1800. Quindi capite che ha una visione delle cose che è lunghissima. Allora, un bando gli dice guarda tu per nove anni devi ristrutturare, investire e quant'altro. Infatti non investe nessuno. Adesso sono in questa situazione precaria dove tra l'altro continuano a pagare, chiamiamola così, la pigione. Ecco, per una iniziativa che tutti quanti dicono che è necessaria. Questo è il punto, ma questo vale per tantissime altre cose e tantissime altre realtà. Beh, che adesso poi andremo a scoprire meglio. Allora, intanto andiamo un po' con un po' di musica con Francesca Michelin con Solite Chiacchere. Francesca Michelin, Solite Chiacchere. E sono sempre grandi chiacchiere quelle che facciamo qui il martedì con Valda Crubini, ma non sempre le solite, anzi cerchiamo sempre di trovare nuovi spunti, anche se poi ogni tanto bisogna tornare su dei temi. Perché questo tema, ad esempio, delle locazioni, dei bandi, dell'unico modus operandi che ormai c'è, pensando che sia l'unico modo per gestire il patrimonio pubblico da dare in mano alle associazioni, beh, l'abbiamo già detto altre volte, però insomma non è mai abbastanza. Perché poi si scoprono situazioni come con il pane quotidiano, ma anche altre associazioni. Parlavamo anche di un'associazione dell'Ortica, giusto? Mi dicevi. L'Ortica PS, esattamente. Ma, allora, queste parole che diciamo, abbiamo provato a scriverle nel 2020 nel cosiddetto decalogo dalle periferie per ripartire. Eravamo in pandemia, agli inizi nulla sarà come prima, le cose cambieranno e tutto il resto. Allora, alla luce di un'esperienza ormai decennale, pluridecennale, anche con centinaia di altre realtà, abbiamo provato a mettere in fila, scrivendole, un decalogo. Un decalogo che non fissa degli obiettivi io vorrei fare questo e quest'altro, ma fissa tutta una serie di elementi burocratico-organizzativi in linea di massima afferenti all'amministrazione comunale, ma anche, per esempio, alla SIAE, la Società degli Editori. Punto 7, stavo guardando adesso. La SIAE, punto 7. La Società degli Editori, per esempio. E quindi dove si dice, guardate che se noi continuiamo a fare le cose con le regole che sono state utilizzate fino adesso, non cambierà assolutamente niente. Ritorneranno tutti quanti i problemi che c'erano prima, dopo la pandemia ritorneranno. Siamo nel 2024, la pandemia si muove sempre un po' sotterraneamente, non è che sia sparita dalla circolazione, però diciamo siamo ritornati in quell'attività abbastanza normale, come c'era prima, e tutti i problemi ritornano a capo. Allora, in particolare noi, sull'argomento di cui stiamo parlando adesso, che è quello esattamente dell'utilizzo delle strutture comunali, e quindi stiamo parlando del decalogo dalle periferie per ripartire, il punto 4 diceva rinnovo concessioni e locazioni di locali di proprietà pubblica. E appunto dicevamo, per le associazioni culturali e sociali periferiche, perché essendo consulta periferie Milano e ci occupiamo non di Piazza del Duomo, che hanno locazioni con il Comune di Milano ed altri enti pubblici, prevedere che alla scatenza possa esservi il rinnovo e non lo sfratto, come è adesso, eliminando la precarietà di chi si impegna, stiamo dicendo adesso, per esempio, per il pane quotidiano, e che per l'assegnazione non si prevedano canoni al rialzo, perché l'iniziativa nei quartieri periferici non può essere lasciata sulle spalle dell'associazionismo, mentre sfitto e abusivismo sono altissimi, anche creando pericoli. Allora, questo è il tema. Se io ho un'iniziativa che funziona rispetto a tutte quante le regole, do un contributo alla città, mi ha anche riconosciuto magari con l'Ambrogino e così via, allora ci deve essere una organizzazione che prevede il sostegno di queste realtà, perché tutte le volte che arriva una lettera di fine locazione, tutti quanti si cominciano a mettere in agitazione, ma giustamente si cominciano a mettere in agitazione, anche perché appunto c'è l'associazione L'Ortica che si occupa di persone che hanno delle difficoltà personali piuttosto significative e hanno fatto un bando dove dicevano il canone di locazione base 10.000 euro l'anno. e fa ma noi come facciamo a pagare 10.000 euro l'anno è già fin troppo che riusciamo a tenere per un nucleo magari uno può dire nella Milano ristretto perché danno risposta a 60 casistiche relative famiglie, però sono tutte queste varie gocce che da sole uno dice vabbè sono 60, no se noi guardiamo la città nella sua complessità ma sapete quante gocce ci sono queste? Ecco, per tutte queste gocce ci sono dei problemi di locazione. Ecco, questa cosa però è dovuta infatti non voglio voglio da me spezzare non ci dobbiamo spezzare una lancia a favore del comune però in realtà il comune diciamo che in questo momento è in un certo senso dice così è obbligato a fare questa cosa qui perché le regole dicono questo ma soprattutto perché se fosse direstamente c'è il discorso della Corte dei Conti com'è che funziona lì? Il danno erariale viene calcolato? No, allora ci sono varie modalità con cui affrontare il tema è chiaro che vuol dire anche approcciare con una lente di ingrandimento più attenta io prendo e dico va bene uso i bandi chi mi dà più soldi entra rispetto a determinate condizioni è chiusa e morta lì invece se io comincio a vedere porto un piccolo esempio banalissimo c'era una persona che è stato presidente del consiglio di zona 1 ai tempi che furono e viveva anche in centro presidente ha fatto l'università in centro e tutto il resto poi è andato a collaborare con l'assessore all'urbanistica stiamo parlando degli inizi del 2000 per cui non proprio secoli fa e allora e per forza di cose per andare a vedere l'urbanistica di Milano è dovuto andare diciamo così fuori dal suo cerchio magico uscire dalla circonvallazione dalla cerchia dei bastioni già la circonvallazione cominciamo ad essere fuori no? e allora mi dico ma è tutta un'altra cosa? eh ecco il tema è proprio che è tutta un'altra cosa continuiamo a dire ma il centro le periferie non sono e invece invece sono un'altra realtà dopodiché c'è la periferia che sta bene e la periferia invece che sta male la periferia che sta male dobbiamo tenerne conto che come regole non vuol dire periferia che sta male e quindi ha bisogno del pronto soccorso c'è una periferia che ha delle criticità ma anche ha delle risorse all'interno parliamo sempre dell'associazionismo e così via sembra che l'associazionismo abbia un effetto taumaturgico prendo l'associazionismo e risolverai i problemi guardate che se Milano ha tutta una serie di problemi con un associazionismo che è molto significativo vuol dire che il sistema che presiede le relazioni e le regole non è adeguato l'ingramaggio ogni tanto si incritta qualcosa che non va non è assolutamente adeguato in particolare non c'è la gestione territoriale quindi noi interveniamo molto spesso come in questo caso in una realtà un'iniziativa fatta in periferia con delle regole che sono quelle che valgono per il centro città e anche per altri settori magari settori commerciali e così via questo qui è esattamente il tema di fondo in secondo luogo non abbiamo un governo vicino che quindi abbia come priorità quel luogo lì vicino perché tutto è organizzato centralisticamente quindi ciascuna realtà deve fare tutta una serie di trafile punto uno del decalogo decintamente sempre si torna lì giusto io direi che riprenderlo tutto quanto punto punto e sviscerarlo bene questo decalogo perché è del 2020 sono passati quattro anni ma è molto attuale ancora mi sa ma perché perché noi abbiamo in fine della fiera una organizzazione amministrativa che eredita l'idea di 50 anni fa buona che non è mai stata resa esecutiva il risultato è che noi abbiamo 250 giocatori che hanno le magliette ma che sono i consigli aieri di municipio e presidenti l'unico problema è che non hanno il pallone in campo ci cedono in 5 ricordiamo oggi in questa occasione anche la dipartita di Gigi Riva che per noi che abbiamo qualche anno in più è stato sicuramente un simbolo ma anche come tipo umano da questo punto di vista anche legami a un territorio periferico essendo rimasto in Sardegna senza voler dire che Sardegna è periferico però sicuramente nel mondo del pallone ma Cagliari è riuscita a vincere con Maglio Scopigno anche uno scudetto quindi questo che cosa vuol dire che le cosiddette eccellenze non è una gran bella parola a dire la verità ci sono da tutte le parti quindi cerchiamo di affrontare questo problema e di farle uscire queste eccellenze perché ci sono bisogna andarle a scoprire e ci sono grazie Walter ci vediamo martedì prossimo ci sentiamo martedì prossimo potete riscoltare tutto quanto anche sul podcast di Good Morning Milano appunto gli interventi di Walter Cherubini con il suo Focus Periferia grazie mille Walter grazie a voi e buona giornata e buona giornata a tutti andiamo con la nostra sigla grazie a tutti 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 Grazie a tutti.